Salve a tutti. Dal prossimo 15 dicembre non sarà più possibile per il personale scolastico accedere al lavoro con un semplice tampone senza aver effettuato il vaccino. Infatti nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre scorso è stato approvato un nuovo decreto legge che introduce l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, quindi dirigenti, docenti e personale ATA. Restano affidate ai dirigenti scolastici i compiti di verifica e controllo dell'assolvimento dell'obbligo da parte del personale, il quale qualora non riuscirà a dimostrare di aver effettuato quantomeno il primo ciclo di vaccinazione avrà cinque giorni di tempo per dimostrare di aver prenotato la vaccinazione o comunque di aver ottenuto un'esenzione dall'obbligo vaccinale o comunque di essere un soggetto esonerato dall'obbligo vaccinale. Qualora nei tre giorni successivi dalla prenotazione della somministrazione del vaccino il docente o il personale scolastico interessato non dimostrerà di aver effettuato la somministrazione del vaccino, il dirigente scolastico provvederà alla sospensione. Quindi la sospensione è la prima delle sanzioni che si applica a chi non riesce a dimostrare di aver effettuato il ciclo vaccinale e determina appunto la sospensione lavoro con privazione della retribuzione ma non vi saranno altre conseguenze di natura disciplinare. La violazione delle prescrizioni circa l'obbligo vaccinale comporta altresì anche l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro che verrà raddoppiata in caso di reiterazione della violazione stessa. Si tratta di misure molto stringenti adottate dal governo per far fronte alla riacutizzazione dei casi di Covid in Italia e vedremo come reagirà il personale scolastico non ancora vaccinato che a dire il vero è un numero esiguo rispetto al totale. Seguiteci per i nostri aggiornamenti sul sito tecnica della scuola.it o sui nostri canali social. Arrivederci a tutti. Grazie.